Il spettacolo della natura riempie il cuore di felicità. Un agricoltore, quello vero, al di là dell'aspetto economico, vive di soddisfazioni personali. E una delle più belle soddisfazioni è vedere, piantare una pianta, vederla crescere, vederla produrre. Ed è la stessa felicità che produrre il mettere al mondo un figlio, che prima sta nella pancia della madre, poi nasce, poi diventa bambino.